La freschezza prima di tutto, ma anche gli accurati controlli degli allevamenti, la tutela della salute dei pesci e il rispetto per l'ambiente. Acquacultura, un mondo buono, fino a casa tua. Campagna promossa dal Ministero delle Politiche Agricole. Ok, grazie, andiamo avanti. Iniziamo con la squadra. Loro sono gli uomini del milaio, importantissimi perché le hanno attenzioni in attenzione. Divertito, comina, 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 romano e pericolo. Oggi abbiamo un po' più i bici. E' svedese che sta aiutando la squadra anche a questo vento di emergenza. Cosa da la squadra anche a questa è stata aiutando. E' svegliata, un po' più. 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 Giovanni, che viene sepposito. Ogni numero 51, che tostava. Pivotto di 200, 6 centimetri. Arriva il cassino. Tumasco, il frutto. E' svegliata. che è un tre e quattro, con scospano, ha giocato l'albero, Marco Giulini! Con il numero 13 è la portata, ma soprattutto è pronto a farsi capitare il passato al popolo nascosto che era passato a gioco, lo scorso anno ha giocato a una storia più grande! A Pagliari, Modena, Alamo, Rossosa! Sì! con il gruppo il campo dell'estate di vostra scuola in questo evento è che il box ma sarà pronto per il percorso lo scorso anno ha giocato in Russia oi la Russia e che vuole essere il passato spesso a farlo e non lo scorso anno è una storia con ieri Sì! 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 Olima numero 3 è da passato ed è il pezzo pregiato del porto al campaniero. Le potine fredde ci ha detto il titolo di Fattina, l'unico del gesto di Fattina, quel gol si può! Sì! 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 C'è un rivelco del porto sull'unico è nata in California, ama da sensi un po' ciò male, Arriba da Roma, dove hanno sfruttato grandi stagioni e un leader che è pronto a fare esplodere il male maggior Bopi Giun Solano! Buongiorno a tutti i giornali e politici lo conosciamo tutti Acutato a Ligio del Covid-19 e nel ritorno di Soria Sarà il nuovo capitano di Azzorero che accetta bene la casetta del cuore Azzerra! Dioci! Passiamo al Dottoteo O lui che dovrebbe gestire la vita e regalarsi una stagione di noi Lui è il mio chiesco, ma soprattutto ha detto uno scudetto che è tornare Signore e signori, chiamo il benvenuto, al grande numero 7! Saluto! Buon appetito! Saluto! Saluto! Caso frsteo! Gar MA e i miei miei comunali e i miei amici ha accettato la nuova seguita e ha presentato la massa di sé il presidente Raffaele De Morsini si è insinore ai noi possiamo conoscere la Teddy Harley asumir dai nuova